Allora, eccoci qui, siamo all'interno del Teatro Comunale in Viaremanzini a Vicenza. Con me è Chiara Visentin, curatrice di una mostra un po' particolare. Di cosa si tratta l'autoressa Visentin? È particolare sicuramente già dal titolo che anch'io mi ostino a leggere, In tedesco è terribile, però ha un significato, ce lo dica? Assolutamente, è una frase, anzi devo dire una delle frasi più incisive di che cosa è ancora paura adesso, che Lulu, nell'opera di Bedekin, pronuncia al suo in realtà unico amore dei tanti che ha avuto il giornalista Dottor Schön. Perché? Perché questa frase in qualche modo vuole essere l'elemento determinante in una mostra che in realtà sembra che abbia poco di letterario, invece ne ha molto. Sembra una mostra di fotografia, in realtà è una mostra di fotografie rielaborate, e gli artisti li definiscono ritratti, fotografie di fotografie potremmo dire. Sono circa una trentina di fotografie sulle quali sopra c'è appunto questa incisività di questo testo, di questa frase, oltretutto con questi colori molto pop che sembrano, se li vedete dall'arancio al giallo, sembrano quasi dei supermercati svizzeri degli anni Ottanta. Tutto questo è assolutamente voluto, voluto in questa serialità di foto, tutte quante uguali, tutte quante che riportano questa frase. Sono foto di personaggi, soprattutto sono quasi tutti dei cittadini di Vicenza, che non sorridono, che ti guardano quasi ponendoti loro stessi questa domanda, ma non sono tristi, sono assolutamente, come dire, inquisitori. Ma perché queste immagini? Queste immagini fanno parte del percorso degli artisti Anna Rosa Romano e Paolo Monterisi. Ecco, sono due artisti di cui appunto non abbiamo parlato fino ad ora, ma chi sono questi due artisti? Sono due artisti che lavorano tra Treviso e Milano, questa a Vicenza è la loro prima volta qui, nel capoluogo berico, e hanno una modalità assolutamente concettuale nell'uso di molteplici forme espressive dell'arte contemporanea. Non a caso non c'è solo la fotografia, anzi potremmo dire la fotografia della fotografia, non c'è molto spesso l'uso del testo letterario. Questa mostra potremmo anche definirla una sorta di homage ad un'altra grande artista che loro amano molto, la francese Sophie Kalle, ma c'è anche un lavorare su altre forme artistiche come la scultura, la scultura e l'uso plastico della ceramica, la videoinstallazione, al teatro c'è una videoinstallazione site specific, come anche site specific c'è una grande marionetta in tessù, cioè un grande pupazzone potremmo dire... Gettato a terra, e che significato ha? Di oltre tre metri, gettato a terra volutamente, le persone potrebbero anche calpestarlo. Oddio, mamma mia, i bambini lo fanno già. I bambini ci possono assolutamente anche giocare, anzi devono, perché l'arte contemporanea è anche ludica, ironica, seppure questa mostra sottenda assolutamente un significato tragico. e ha uno dei tanti significati che Romano e Monterisi vogliono dare alla loro arte. C'è un amore verso Anatole Broiard, il titolo del pupazzone è appunto Anatole, che è stato un critico del New Yorker, un personaggio assolutamente molto, come dire, problematico e anche, insomma, del quale non si è ancora capito la vera essenza e la vera personalità, ma anche Anatole vorrei ricordare, perché tutto parte da una Vienna Fiendesekl per la Lulu di Vedekin, e anche un bellissimo, una bellissima storia, una bellissima romanzo di Schmitzler, Anatole, che è una sorta di Don Giovanni, e in realtà è proprio questo, cioè l'unico cadavere della mostra, l'unico personaggio che appunto è in posizione orizzontale, inerme, è un uomo, e qui invece in questa mostra c'è molto di femminile, è un uomo, è Anatole, Anatole di Schmitzler, punto di domanda, Mi fa paura questa cosa, io ho ancora paura. Eh, ma non è una donna, seppure purtroppo Lulu, tragicamente, è l'unica, è l'ultima protagonista morente dell'opera da cui appunto è stato tratto il titolo. È una mostra interessante da venire a vedere, qui al Teatro Comunale, adesso non lo so quali saranno gli orari, perché qui non sempre è aperto, insomma. È sempre aperto. Ah, è sempre aperto per la mostra? No, no, è sempre aperto quando ci sono gli spettacoli, e quindi poco prima degli spettacoli, devo dire che il calendario di dicembre-gennaio del teatro è praticamente giornaliero, è ricchissimo, quindi è praticamente visitabile tutti i giorni, prima cosa. Seconda cosa, una cosa interessante, ci sono degli set fotografici che possono essere fatti da tutte e quante le persone che vogliono. Eh, questa è una cosa bellissima. E le date specifiche dei set allestiti sono sul sito del Teatro Comunale, o anche su Eventbrite, bisogna solo iscriversi, sono ovviamente gratuiti, e su questi set fotografici chiunque poi potrà farsi la sua foto, e gli artisti la rielaboreranno come effettivamente hanno fatto con le foto, con i ritratti presenti in mostra, e daranno appunto a chi, a coloro i quali vorranno, un, come potremmo dire, una opera d'arte contemporanea da portarsi a casa. Ecco, allora, grazie a Chiara Visentin, rileggo, vediamo se riesco a leggere, Was für Sie denn jetzt noch? Questo è il titolo, e gli artisti sono, vediamo se riesco a leggere, Anna Rosa Romano e Paolo Monterisi. Anna Rosa Romano e Paolo Monterisi. Ecco, questa mostra la possiamo venire a vedere qui al Teatro Comunale di Vicenza. Grazie, e su tcvi.it, intanto metteteci mi piace qui su YouTube di room21.it, su Instagram e pure su Facebook. Arrivederci, grazie a tutti.